Shhh, vi voglio svelare un segreto, ma prima mandiamo la sigla! Buongiorno amici ombrewers e benvenuti e bentornati sul canale di Biramia. Sul sito di Biramia non esiste nessun articolo per quanto riguarda le chiavi per i fusti a baionetta. E sapete perché? Perché le chiavi per i fusti a baionetta che si trovano in commercio sono veramente care e in realtà è talmente tanto semplice realizzarne una che oggi vi vogliamo incoraggiare a realizzare una chiave per fusti a baionetta fai da te grazie a questo piccolo tutorial. Ma prima fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi utilizza i fustini e se avete mai pensato di costruire una chiave per fusti a baionetta. Magari mandatemi anche qualche foto del vostro piccolo fai da te su Messenger perché sono molto curiosa. Ma passiamo al tutorial. Vi servirà un ferro piatto 45x45 mm, un tubo di metallo di circa 50 cm di lunghezza. Il diametro non è molto importante. Nel tutorial che andremo a vedere il tubo che abbiamo utilizzato ha un diametro di 20 mm. Fonda antiruggine e vernice. Come attrezzatore saranno utili un seghetto, una mola o una lima e un saldatore. Ma facciamo arrivare le mani di un artigiano esperto. Su un ferro piatto prendi la misura di 45 mm e tira una riga che ti aiuterà nel taglio. Taglia il metallo con un seghetto. Noi avevamo a disposizione una trancia. Se stai utilizzando del materiale di scarto ripulisci il pezzo di metallo ottenuto con una mola. Verifica che il pezzo entri nell'innesto del fustino. Se così non è, semplicemente molalo leggermente sul lato fino a raggiungere la dimensione precisa dell'innesto. Prendi un tubo di metallo e misura 50 cm e taglialo con un seghetto. Anche in questo caso, se stai utilizzando del materiale di scarto, ripulisci il metallo con la mola. Segna il centro del tubo con un pennarello a 25 cm. Poggia il ferro piatto al centro del tubo e segna dove arriva. Tieni fermo il ferro piatto sopra il tubo. Noi in questo caso abbiamo utilizzato delle squadrette magnetiche. E poi procedi con la saldatura, ricordandoti di mettere la maschera di protezione per gli occhi. Aspetta che il metallo si raffreddi e correggi le imperfezioni della saldatura con la mola. Possiamo adesso passare alla verniciatura. Prima di verniciare, pulisci il tutto con un panno o uno scottex imbevuti di solvente. Passa uno strato di protezione antiruggine e aspetta che asciughi. E poi potrai procedere a verniciare il tutto con uno strato di colore a tua scelta. Noi abbiamo usato il nero. Ed ecco pronta la vostra chiave per posti a baionetta, che non ha assolutamente nulla da invidiare a quelle presenti in commercio. Fatemi sapere nei commenti se questo piccolo tutorial vi è stato utile e se volete che ne realizziamo degli altri. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettere mi piace e di condividerlo con tutti i vostri amici Ombrewers. Inoltre se non volete perdervi nessunissimo video non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche di quando escono le nuove pubblicazioni. Per oggi amici Ombrewers il video termina qui e buona birra a tutti!